Ciao a tutti ragazzi da MrGrizz99 e benvenuti in un nuovo video. So che da un po' che non ci sentiamo ma voglio approfittare di questo video per insegnarvi a installare Avast Premiere 2014 completamente gratuito fino al 2050. Dunque per prima cosa dobbiamo scaricare Avast dal sito originale Avast, quindi completamente originale, ma vi lascerò comunque il link. E oltre ad Avast dovremo scaricare questi due pacchetti, Crack e Licenza e vi lascerò anche di questi il link. Bene, una volta scaricato Avast, doppio clic, quindi partiamo subito con l'installazione, facciamo, vabbè, consentisi, installa la prova di 30 giorni, installazione standard e poi farà tutto in automatico fino alla fine. Io chiudo perché l'ho già fatto. Vi chiederà di riavviare il computer, riavviate. Una volta installato, vi apparirà che praticamente non vi apparirà tutto, che vi apparirà abbonamento e il tempo restante. Andiamo su impostazioni, risoluzione problemi. Qui ci sarà una spunta abilita nel modulo di autodifesa di Avast. Dovremmo togliere questa spunta dal modulo e fare ok e fare a consenti. O sì, perché vi dirà che probabilmente è rischioso perché è un malware, ma in realtà siamo noi quindi facciamo ok. Chiudiamo. Andiamo in Firewall, nel Firewall quindi da pannello di controllo, Windows Firewall. Impostazioni avanzate. Connessione in uscita. Si, ho raddoppiato la regola, comunque facciamo connessione in uscita, nuova regola. Avanti. Vi darà il percorso, dunque. Faremo dall'icona del desktop, facciamo apri percorso file. E vi uscirà questo indirizzo. Un solo clic su Avast UI e facciamo CTRL-C oppure copia. Andiamo qua in alto, facciamo slash, CTRL-V.exe. Quindi copiamo e basta. Poi selezioniamo tutto, facciamo tasto destro copia. Chiudiamo pure. Facciamo tasto destro incolla. Facciamo avanti, avanti, avanti. Qui daremo il nome tipo block Avast. E non scrivere nulla nella descrizione. Faremo fine. Io faccio nulla perché ce l'ho già. Anzi, veramente l'ho anche raddoppiata. Va bene. Vi apparirà questa. Quindi la connessione tra Avast e il server vero e proprio di Avast sarà bloccata. Chiudiamo. E andiamo a inserire la licenza. Quindi la licenza la estraiamo sul desktop. Facciamo chiudi, chiudi. Computer, disco locale C e facciamo organizza, opzioni, cartelle, ricerca, visualizzazione. Facciamo visualizza cartelle. Facciamo così. Voi troverete questa spunta qua. Non visualizzare cartelle, eccetera. Facciamo visualizza cartelle, file, unità nascosti. Facciamo applica. Ok. E da program data. Cioè vi apparirà program data config.msi mso cache. Noi premiamo program data. Facciamo Avast software. Avast. E facciamo tasto destro copia. E incolla. Vi chiederà di sostituirlo. Facciamo sì ovviamente. Io non lo faccio perché ce l'ho già. Se non vi chiede di sostituirlo copiate la licenza ma eliminate quella vecchia. Se no non funziona. Chiudiamo il tutto. E apriamo Avast. Cioè apriamo scusate il vero e proprio Crack. Che sarà Zenix. Scusate che sarà da Crack. E. Crack mi sembra. Dovrebbe essere questo il programma. Sì. Vi apparirà questa lingua qua. Mi sembra. O comunque questa. Noi facciamo inglese. E facciamo quel tasto sconosciuto. Poi facciamo next. Accetto. Next. La password è proprio scritto. È questa qui. Zenix. Quindi Z maiuscola, I minuscola, N maiuscola, I minuscola, X maiuscola. Next. Queste scritte sconosciute. Next. E installa. Io non lo faccio perché va bene l'ho appunto già fatto. Fatto questo. Apriremo Avast. E vi risulterà tutto ok. Se voi andrete a vedere impostazioni. Abbonamento. Non vi uscirà più 30 giorni. Ma 13.248 giorni. O anche meno in base a quando voi lo farete. Quindi avete gratis Avast. Fino appunto al 2050. Bene. Spero che il video vi sia piaciuto. E mettete. Se è così mettete un bel mi piace. Iscrivetemi. E ciao a tutti da MrGuizzo99.